Oggi vogliamo discutere di un evento sorprendente che ha attirato l'attenzione dei media italiani. La figura di spicco attuale, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia e un punto focale nella politica italiana, si è improvvisamente trovata al centro dell'attenzione non per una mossa politica, ma a causa di un inatteso cambiamento nella sua sfera personale. Prima di entrare nei dettagli, vorremmo chiedere il vostro prezioso supporto. Un semplice gesto come un «mi piace» a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di enorme importanza. Grazie di cuore per il vostro sostegno. La notizia della separazione di Giorgia Meloni da Andrea Gianbruno ha scatenato un vivace interesse pubblico. Nel frattempo, il panorama politico attendeva ansiosamente ulteriori dettagli. Anche se Meloni aveva scelto di mantenere la massima riservatezza sulla sua vita privata, fonti affidabili ma anonime hanno rivelato un aspetto intrigante, sembra che abbia iniziato una nuova relazione tenuta segreta fino ad ora. La curiosità del pubblico rimane alta riguardo a potenziali nuove rivelazioni che potrebbero alimentare ulteriori polemiche. Invitiamo tutti a condividere i propri commenti e opinioni su questa questione, dimostrando un interesse continuo nello sviluppo di questa vicenda.